Grazie, arrivano le parole del Presidente Asso Lombarda, Confindustria in tema evasione, dice chi non paga le tasse fa concorrenza sleale, ma sentiamolo al microfono di Nicoletta Bismara. Uno dei temi che questo governo faticosamente sta cercando di affrontare è quello di avere una burocrazia adatta per gli obiettivi che ci diamo, quindi io considero questo un po' di sforzi di un parto multigemellare, abbiamo sicuramente delle difficoltà in corso per raggiungere gli obiettivi, ma non mi concentrerei sulle difficoltà, ci sono tanti aspetti che vanno avanti ricordando che noi abbiamo bisogno di poche tasse semplici, ma abbiamo bisogno che tutti le paghino e questo è quello che le imprese chiedono, perché le imprese vogliono una concorrenza leale e chi non paga le tasse è una concorrenza sleale.